Ciao amiche mie! Ecco a voi Rainbow Dash, Pinkie Pie e i loro fantastici amici pony! La porta era bloccata! Potranno anche essere piccoli! Devi goderti il momento! Ma le loro avventure sono più grandi di quello che immaginate! L'ho fatta fatta! Ma dovete ammettere che è divertente! Unitevi ai pony per le loro spassose avventure nella nuova serie dei My Little Pony Pony Life a febbraio in Prima TV su Cartunito anche su App!